Sono sui nastri di partenza altri due interventi pubblici che rientrano nell'ambito dell'utilizzo dei fondi dallo sblocco del patto di stabilità e che saranno conclusi entro la fine dell'anno. Il primo riguarda il cimitero della frazione di Ferretto, un impianto di rilievo anche storico risalente al 1885 per il quale il comune di Fano si è dovuto rapportare con la sovrintendenza alle belle arti per il benestare dei lavori. Sono in corso le attività, la gara d'appalto è stata vinta dalla ditta dei Marchi di Fano, il cimitero del Ferretto è un cimitero storico, fra l'altro stiamo facendo i lavori in accordo con la sovrintendenza perché è un cimitero costruito prima del 1900, quindi un bel cimitero di campagna, grande, attualmente funzionale, però presentava dei problemi di infiltrazione di acqua, dei problemi strutturali. Quindi siamo intervenuti, stiamo intervenendo anzi in questi giorni, abbiamo montato le prime impalcature sia all'interno che all'esterno per poter arrivare ai tetti, bonificarli, risistemare le coperture in maniera tale che non ci possano essere più problemi che ci sono stati fino ad ora di infiltrazioni d'acqua. La seconda opera, che vedrà il via nella giornata di domani con le ruspe in azione, riguarda il raddoppio degli stalli nel parcheggio di San Lazaro, nell'area di fronte al centro commerciale, collocato in una posizione strategica per diversi motivi. Uno, tra i tanti, l'individuazione di un'area richiesta da prefettura e questura per le partite di Lega Pro, che serva anche per ospitare le tifoserie avversarie. Ampliremo, dopo tante richieste, il parcheggio di San Lazaro, lo espanderemo di una cinquantina di posti, quindi raddoppiando la sua capacità di fronte a un parcheggio che si trova tra il Palace Allende e le scuole commerciali e le scuole elementari, quindi a servizio sia del quartiere, in senso stretto, perché c'è anche un centro commerciale, ma soprattutto a servizio degli impianti sportivi, quindi il Palace Etorosport, e anche direi lo stadio, ma anche a servizio degli autobus, ad esempio, che consegnano gli studenti presso quel parcheggio che vanno poi alle commerciali, e anche alle mamme e ai papà che consegnano, lì possono parcheggiare più agevolmente, le macchine per portare i bimbi verso la scuola Maria Montessori.